La strana coppia La strana coppia La strana coppia Patrick Salati buongiorno buongiorno ragazzi bella trasferta questa mattina come va con la pesca? hai preso qualcosa? per ora no ma c'è brutto tempo poi vedrete il video aspettava che venivo giù io per venire sto brutto tempo ha detto adesso Patrick arriva qui a pescare butto al brutto va bene senti in attesa che tu becchi qualcosa fra l'altro se adesso tu ti metti a cantare secondo me si spaventano come la metti con i pescatori lì scusa ti arrivano con la canna a cavallo della schiena allora due grandi appuntamenti con Patrick Salati il primo sarà sabato non solo con lui ma anche con tutta una serie di artisti veramente incredibili Lisa Ante in primis ma anche tanti altri personaggi sabato a Carpi in piazzale Rea Stolfo mentre il 30 di luglio potranno vederti anche gli amici di Marina di Carrara giusto? di Marina di Carrara esatto bene bene uno spettacolo imperdibile però l'altro guarda Enrico volevo dirti una cosa stamattina qua sul molo ho incontrato un vecchio amico che ci vediamo sempre qua a pescare negli anni insomma uno del paese e allora l'aveva appena morsicato un cane allora io gli dico ma scusa ma dove ti ha preso un dito ma dico l'hai disinfettata il dito gli dice no no gli dice non ho fatto un tempo per scappare subito io li trovo tutti io non lo so sta diventando come noi sta peggiorando deve essere l'aria del molo la dedica d'amore questa è di quelle clandestine ogni tanto arrivano ma sai d'estate eccola qua che da cantuccina biscottone inzuppiamoci ecco qui allora prego vai vai Patrick le va ma c'è sta maschera dici ma verità te voglio bene te voglio bene a soio dici di un cielo buio che non mi scorda mai sono gentile sospiro mio carnale e cerco come all'aereo te voglio per campare stavattina due vetri hai rotto com'è lì adesso l'atmosfera ti stanno guardando gli altri pescatori no ho affondato una nave meglio di no ciao Patrick ciao 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 strana coppia strana coppia strana coppia